Paolo Iacone, Associazione Culturale Castellarte, c'è una rassegna di musiche da film, di colonne e sonore davvero importante, rivolto a tutte le scuole del circondario, qui di Atri e non solo. Abbiamo organizzato una serie di iniziative, ieri un'opera lirica di Mozart, Le Nozze di Figaro e oggi invece è una mattinata dedicata alle musiche da film. Ieri i protagonisti sono stati i filarmonici, i cantanti della compagnia dei filarmonici di Ascoli guidati dal maestro Massimiliano Caporale, mentre oggi abbiamo il teatro di Atri, i musici notariani che è a sede notaresco, ma sono musicisti bravissimi, tutti professori d'orchestra e queste iniziative sono dedicate a tutti i ragazzi di ogni ordine di scuola, dalle scuole elementari e le scuole superiori della provincia di Terva, non solo, infatti oggi abbiamo anche ragazzi provenienti da penne, dall'istituto comprensivo in direzione musicale e devo dire che i ragazzi almeno sono stati fino a questo momento attentissimi, quasi catturati dalla bellezza delle musiche e anche perché sono di loro, riguardo alle musiche da film, sono di loro conoscenza, quindi sono veramente il risultato è eccezionale. Il teatro è pieno, è in ordine di posto e quindi siamo felicissimi di questo.